Nel match valido per la quarta giornata del Girona F di Serie D, il Notaresco conquista la seconda vittoria consecutiva, battendo 4-1 il Vasto Girardi. Successo netto e meritato per la squadra di Epifani, con la doppietta di Maio e le reti di Valenti e Lopez Petruzzi, mentre alla squadra di Prosperi non basta il momentaneo pareggio di Ruggeri. Con le immagini di Emiliano Gigliotti andiamo a vedere gli alzi della partita. Per quanto concerne il capitolo Formazioni, 4-3-3 per il Notaresco, con il 30 offensivo composto da Maio, Pampano e Valenti, mentre per il Vasto Girardi 3-4-1-2 con Guida, alle spalle del tandem offensivo composto da Metai e Salatino. Al sesto, Notaresco ad un passo dal vantaggio, con Valenti che dal limite lascia partire un bel mancino a rasoterra che si stampa sul palo. Sul proseguo dell'azione, il numero 10 cerca un compagno che non c'è, con un tiro a cross che termina fuori. Al dodicesimo, secondo legno della squadra di Epifani, giocata spettacolare di Pampano, che sul cross dalla destra inventa una sforbiciata che Carrero devia sul palo. La squadra di Epifani domine lungo e largo e al 35esimo passa meritatamente in vantaggio, con Maio, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, insacca di testa in tuffo, 1-0. Passano solo 120 secondi e i patroni di casa hanno la chance per raddoppiare, ma Valenti, da posizione ghiotta, calcio a lato. Dal possibile 2-0 al pareggio del Vasto Girardi, con una strabitosa punizione dei Ruggeri, che dei 30 metri, lascia partire un destro che si insacca sotto l'incrocio, 1-1 e primo tempo agli archivi. La ripresa si apre nello stesso modo in cui si era chiuso il primo tempo, fendente dei 35 metri dei Ruggeri, che questa volta c'entra in pieno la traversa. Sono solo le prove generali del nuovo vantaggio, che arriva al 59esimo. Valenti, duetta con Maio, e dall'interno dell'area fredda Carrero con il piatto Mancino, 2-1. Passano pochi minuti e il notaresco trova il meritato Tris. Sorrini mette al centro per Lopez Petruzzi, il quale si inventa un gran colpo di tacco che non lascia scampa l'estremo difensore ospite, 3-1. Il vasto Girardi esce definitivamente dalla partita e al 78esimo i padroni di casa sfiorano la quarta rete, con un'azione personale del neventrato Marchionni e il suo testo viene respinto da Carrero. 60 secondi più tardi ecco il poker, con Maio, che servito in verticale, incrocia splendidamente con il Mancino, 4-1. È l'ultima emozione del match. Prestazione convincente e secondo successo consecutivo per il notaresco, che sale a 4-9 punti in classifica andando a formare un trenino di 7 squadre in vetta alla classifica. Vasto Girardi ancora secco di vittorie. Innanzitutto può migliorare ancora sotto la condizione fisica, che questa è la cosa principale. Può migliorare come gruppo squadra, perché poi abbiamo cambiato tantissime, quindi piano piano iniziamo ad avere conoscenza del compagno di squadra che ci gioca a fianco, conoscenza di quello che vuole l'allenatore. Quindi piano piano la squadra sta crescendo, questo ne sono felice, però dobbiamo archiviare subito questa grande gara e pensare già alla prossima. Poi questo, ripeto, è un campionato dove ogni partita è fondamentale. Io rimango molto sereno e convinto che lavorando così e continuando con questa tensione, eliminando ovviamente gli errori che abbiamo fatto oggi, io credo che possiamo centrare l'obiettivo finale, che per noi sarà molto difficile. Lo sapevamo prima, lo sapevamo a luglio, non ad agosto. Per noi non è una sorpresa e oggi dispiace perché tranne la prima partita del Castelfidardo dove siamo stati poco brillanti, poco precisi, negli altri abbiamo fatto delle buone prestazioni. Oggi fino a un certo punto secondo me abbiamo fatto bene e poi ci siamo un po' persi.